E' stato un giovane pescaresi a sferrare il pugno al 25enne, fratturandogli la mandibola. A dirlo sono i carabinieri di Pescara che hanno denunciato un 21enne, attualmente in stato di libertà, per lesioni personali con l'aggravante di aver agito per motivi abbietti o futili. Fondamentali le immagini delle telecamere e il racconto dei testimoni. Ora le indagini proseguono per identificare i suoi compici, cinque ragazzi e una ragazza. Secondo alcune indiscrezioni, i sospetti si concentrano su alcuni giovani provenienti da famiglie benestanti, tra di loro anche dei minorenni. Adesso che il presunto colpevole ha un nome e un volto, il comune potrebbe costituirsi parte civile. Almeno questa è l'intenzione del sindaco Carlo Masci, che così facendo va contro la sua stessa maggioranza, che aveva bocciato l'ordine del giorno del consigliere Di Iacovo, che spingeva il consiglio comunale a prendere posizione. Masci, prima della votazione, aveva invitato maggioranza e opposizione a trovare una sintesi, ma oltre quello bocciato, nessun altro emendamento è stato proposto. Intanto prosegue a gonfie vele la polemica. Dopo il danno la beffa, si può riassumere così la soppopera messa in piedi a seguito dell'aggressione omofoba, verificatasi qualche giorno fa sul lungomare pescarese, che ha costretto la vittima a un intervento chirurgico d'urgenza. Il coordinatore regionale di Forza Italia, il senatore Nazario Pagano, è intervenuto sulla questione raccontando una versione dei fatti al limite della fiction. Si è trattato di Knockout Game, la tesi di Pagano, che ricorda la violenza gratuita che aveva animato le cronache degli scorsi anni. L'ennesimo atto di violenza di un gruppo di minorenni, ha dichiarato il senatore, a prescindere dall'orientamento sessuale, ha concluso il forzista. Un tentativo, quello di Pagano, di ridurre la questione a un fatto di cronaca qualunque, come se il fatto che i ragazzi aggrediti si tenessero per mano non c'entrasse nulla. Il racconto della vittima, però, condito da inequivocabili insulti omofobi, non lascia spazio a interpretazioni. Pagano punta il dito contro quelle che definisce ricostruzioni giornalistiche capziose e irrispettose. Sono i giornalisti, insomma, a inventarsi l'omofobia, mentre le discriminazioni e le dimostrazioni maciste non c'entrerebbero nulla. E forse non c'entrano nulla nemmeno con gli insulti a due ragazzi abbracciati in un parco pubblico una settimana prima del pestaggio. Forse non c'entrano nulla nemmeno con i filippini picchiati il giorno seguente al grido di portate il Covid. Si è trattato di un caso, secondo il senatore, se gli aggressori, pescaresi e presumibilmente eterosessuali, abbiano preso di mira proprio dei gay e degli stranieri, utilizzando per di più insulti omofobi e razzisti prima di menare le mani. Tesi simile quella del capogruppo leghista Vincenzo Dincecco, secondo cui non esistono violenze di serie A e di serie B, per cui, seguendo la logica del discorso, il movente discriminatorio non dovrebbe destare alcuna preoccupazione. Altra beffa quella a proposito della diatriba sulla legge ZAN contro l'omotransfobia. Il comune di Pescara ha concesso il piazza salotto alla cattolicissima congrega del Family Day a gruppi di estrema destra che domenica 12 luglio protesteranno contro quella che definiscono una legge liberticida. I manifestanti si raduneranno a due passi di distanza da dove sono avvenute, solo pochi giorni prima, le aggressioni omofobe e razziste. Martedì sera, invece, Ampi e Rete Oltre il Ponte hanno indetto un presidio in piazza Sacro Cuore per dire no alle discriminazioni. Non c'è proprio nulla da contestualizzare, si legge sull'evento Facebook della manifestazione.